Buon pomeriggio amiche, come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Amiche, oggi aggiornamento bollettino sanitario. Mi sento un pochino meglio, ma ho la voce super mega rauca bassa e rauca. Fatemi sapere se questa voce rauca vi piace, se è più rilassante. Se sì, non lo so come faremo a replicarla. Forse con un modulatore di voce? La vedo dura. Oggi, amiche mie, abbiamo un unbox un pochino diverso dal solito. Volevo condividere con voi il mio piccolo acquisto. E voi direte, no, una mutanda, che ne so. Perché come avete capito c'è anche intimo qua. Intimo di qualità, le mutande di nonna Bellarda praticamente, no? Amiche, così è. La vostra lalix, la vostra streghetta preferita è così, mutanda semplice. Ma ovviamente, come avete ben capito, il mio target non è mutanda di Victoria's Secret, mutanda Prada. Non so neanche se le fa le mutande Prada. Non ne ho idea. Comunque voglio dire, non mutande costose, ma una mutanda qualsiasi, basta che sia, io dico sempre, come diceva mia mamma, basta che sia pulita. Come anche la mutanda. Come anche i vestiti, come anche le calze. Certo, poi non nego che, come si dice, l'oggetto di lusso, io non posso dire che non sia bello. Però posso dire che per me, questo rosa, non è lo scontrino, però me lo ricordo, 4,50 euro. Perché appena ho comprato, fresco, fresco, oggi pomeriggio, questa mutandina rosa, così, mi fa impazzire. Cioè, poteva essere qualsiasi brand, anche popolare. Anche l'avesse fatto Zia Carlotta, eh? Intendiamoci. Cioè, che sapete che io stravedo per Zia Carlotta perché fa dei pack rosa molto carini. Però a me, a volte, di solito, spesso, nella quotidianità, non mi serve chissà che cosa, ma l'articolo in sé che acquisto mi deve piacere. Specialmente il colore e poi, chiaramente, sapete che per esempio questa giacca, per averla presa con i saldi però, ecco, volevo dire, rinascimento, per esempio, non ti ricordo. Si costa a prezzo pieno, assoluta gappata. Intorno ai 120 euro la giacca. Quindi non è, mai visto? Mi si attacca la cilia sopra con quella sotto. E poi tiro così. Aiuto. Piccolo, infra, infra inutile, informazione inutile. Sì, volevo dire, costa tanto, costa poco, sicuramente ci sono giacche Prada per 2-3 mila euro, no? Quindi, diciamo che 120 euro con i saldi mi pare di averla pagata a 70, è un buon compromesso. Probabilmente al mercato si poteva trovare magari in una bancarella a 40 euro, non lo so, però io sinceramente che i mercati ci vado anche, non mi è capitato di trovarne fatta così a un prezzo minore. Anche dico lo stesso tipo, tipologia di stoffa abbastanza, come si dice, non elegante, però lucida, è tipo, non è tecnica. Non lo so come si chiama questa stoffa. Però liscia così, perché se no, sì, nelle bancarelle si vedono, ma di tessuto tipo quelli elasticizzati, tipo tutta la ginnastica, no? Però a me a volte piacciono anche, sì, fatte diciamo con la stoffa un pochino che ti richiama più l'elegantino. Quindi mi sembra un buon compromesso come cifra. Ma fatemi sapere, è esagerato, secondo voi la giacca, per esempio, così elegantina da usare, perché partono dai 130, quest'anno sono aumentate tanto perché ho guardato sul sito. Sai che costano 149? Sì, non mi pare l'anno scorso a prezzo pieno. Poi dipende dal modello, perché secondo me variano dai 110 ai 149 quest'anno. Sono le giacche di rinascimento che, sapete, mi piacciono tanto, tanto, ma secondo me l'anno scorso, o due anni fa, perché l'anno scorso forse ne ho presa solo una o due, vero? Con i saldi. E costavano meno, 20-30 euro in meno a giacca, perché lo stesso modello senza bottoni, io sono sicura di non averlo pagato, dovrei ascoltare il video se avevo detto il prezzo, ma mi pare di non averlo pagato 100 euro più di 100 euro. Quest'anno invece ho visto 110-109, mi pare, e io invece sono convinta che costasse a prezzo pieno sui 90. Ok. E con i saldi te lo davano tipo a 70-60, con il saldo quello ancora basso. Poi se te lo facevano a metà prezzo, metà di 90-45, quindi era un affare atomico, assolutamente da non perdere secondo me. Quindi adesso più salgono i prezzi e più sono costosi i capi di abbigliamento anche con i saldi. Perché se costa una giacca 149 euro, con i saldi del 20-30, costa molto, perché togli 15 euro, amica il mio calcolo, 15 euro da 50 euro e 30 euro dai 100, quindi meno 45 euro, 150-45 diventa 105 euro. Ok? Ok. Per chi non è capace molto in matematica fa come ho fatto io, perché con i soldi sono veloce, mi ragiono velocemente, ma a modo mio, ecco. Quindi una giacca che prima con i saldi magari mi costava 60 euro, 70, adesso col 30% mi viene a costare 105 euro, non è poco con i saldi. Quindi si aspetta il metà prezzo, vuol dire, facciamo 150 euro, la metà è 75, è sempre molto, per essere metà prezzo, non è che te la stanno tirando in testa come le carote al supermercato, gli stai dando sempre 75 euro. Quindi il valore, diciamo, il prezzo si spinge sempre più in alto. Eh sì. Mo, perché ho detto tutta sta cosa non mi ricordo. Ah no, per chiedervi se secondo voi appunto sono esagerati i prezzi, avete qualche brand da consigliarmi che fa giacchette così elegantine tipo rinascimento? Se sì, fatemi sapere nei commenti e io sono super curiosa di provare. Certo che io ho un negozio che mi vende rinascimento, quindi se il brand che mi consiglieranno ce l'ho vicino è semplice perché posso misurare. Se no, io preferisco misurare e comprare nel negozio fisico online. Sì, a volte compro qualcosa, però non mi dà la stessa experience, come dicono, no? Mi piace di più nel negozio fisico. Queste, a proposito di negozio fisico, le ho addirittura comprate nel supermercato. Sono entrate, amiche, a fare la spesa, a comprare da mangiare e sono uscita con, oltre al cibo, anche con le mutande. E ho preso, allora, io ho preso, boh, mi sono tenuta con la taglia comoda, adesso l'apro e sarà, sarà magari a, sarà enorme? Ma no, a me piace la mutanda comoda. È super semplice, le mutande della nonna sembrano, no? Lo so che poi me lo dicono, magari. Ma io sono per la mutanda comoda, guardate, amiche, che carino. È, 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 però è a vita bassa. Io, se fosse, cioè, se fosse possibile, lo preferirei pure a vita alta. Pure? Sì. Allora, lo giriamo, che c'era la signorina. Lo giro. Eh, vabbè, ormai. Eh, vabbè, scusate. Ma si può, no? Lo mettono nel negozio. Eh, beh, sì, è il cartellino. Il cartellino è fatto così. E dice, mi piace un sacco questo brand, che non lo so se il nome riflessi, perché dice Made in Italy, 4,50 euro, un Made in Italy comprato al supermercato. E dice rigorosamente italiano. Io, se si può, e c'è scritto Made in Italy, lo scelgo volentieri, devo direvi la sincera verità. Senza cuciture. Io sono in fissa per queste robe senza le cuciture, mi piace un sacco. E in realtà penso che sia comodo. Ovviamente, se poi sono comode, le prendo anche a te. Ok. Le fare i nostri, amiche. Ti stiamo facendo un attimo le fare i nostri. L'ho preso anche. Giriamo la signorina. Anche azzurro. Sempre LXL. C'era anche SM. Mi piace un botto che non ci sia l'etichetta, così non la devo staccare. Ah, giusto. Quindi è super carino che sia fatta così. Ed è azzurrina. Ovviamente, tutto è partito, amiche mie, dalle canotte. Da una canotta. Perché questa canotta qua, la voglio utilizzare quest'estate. A me viene un po' da ridere, perché ho intravisto un po' di tempo fa gli acquisti di altre colleghe, no, qua, che facevano vedere di quelle robe atomiche, tipo le canotte da 300 euro. Io, amiche mie, vi faccio vedere nel mio piccolo la canotta da 7,50 euro. comprata al supermercato. Vabbè, ormai saranno rassegnate anche le nostre amiche. Taglia LXL. Perché non c'era altra taglia. Perché per la mutanda, amiche, la voglio comoda. Invece la canotta me la faccio stare. Sì, sì. Qualsiasi taglia, perché al limite se mi è piccola, mi ci metto sotto una maglietta, se corta, no? Mi ci metto una maglietta, la uso lo stesso. La uso... Ma questa allora rischia che sia troppo larga? Boh. Non lo so. La metterò al massimo a curicare. No, vedi che va bene. Va bene, va bene. Va bene. Me la faccio stare. Tu dettagli e tu vesti tutto tagli. Infatti, come dicevo una volta, una ragazza al mercato gli ho chiesto che taglia è e mi ha risposto tutte taglie, tutte taglie, non c'è la taglia. Vabbè. Questa canotta di questo colore l'ho comprata 10 milioni di volte, no? 3, 4, 5. 6, dai. 6 volte. Sempre di brand diversi, di cui una volta al mercato, una volta, mi ricordo, forse, amiche, 16 anni fa l'ho comprata la prima volta di questo colore in un negozio che non esiste neanche più qua, a chiuso. E quella è stata la prima volta. Ovviamente non di questo brand, di altri brand, però sempre fatte così in microfibra. Mi ricordano un sacco anche quelle tipo di Pompea, mi pare si chiamino, che erano così in microfibra morbidissime. Mi sembra, sì, sì. Ma, insomma, tutti i brand ormai la fanno, questa specie di microfibra. Anche questa è Riflessi. Qua possiamo far vedere tranquillamente anche la signorina e dice appunto a Made in Italy, a me piace tantissimo questa canotta. E quindi, visto che avevo preso la canotta, sapete che faccio un sacco di fatica a comprare mutande. È un miracolo, quest'anno l'ho già comprata due volte. Quella è con i pua e questa. È vero, sì. Scusate. E quindi, è un miracolo, ho già comprato tre mutande. Se continuiamo così... Sì, che tu di solito non vuoi, sì. Tu di solito mutande buono, non è che... Neanche una mutanda l'anno scorso, in tutto l'anno, amiche. Neanche una mutanda, forse 3-4 anni che non compravo una mutanda. Quindi, ho proprio esagerato perché le mutande io odio comprarle. L'ho presa anche azzurra, sempre LXL. Sinceramente, forse c'era anche di altre taglie. Ma ho preso quella perché questa non c'era di altre taglie, era l'unica rosa. E quindi mi devo essere un po' fregata io. Perché forse questa c'è anche in altre taglie. Ok. Io l'ho agganciata perché secondo me queste con i jeans sono molto carine. Ero indecisa se prenderla anche bianca. Però bianca ne ho uno o due, forse. Due o tre bianche. Però di diversi anche modelli. E fatta così ce l'ho già due volte. Però in prevalenza la bianca tende a essere un po' trasparentina. Quindi mi ci metto sempre alla doppia cannottiera. Allora non ha molto senso. Ho preferito optare per il rosa antico e questo blu che sicuramente non è per niente trasparente. Infatti sono contenta, mi piace, sono super felice. Fatemi sapere nei commenti se voi prendete le canote in microfibra al supermercato per utilizzarle. Poi magari con i jeans come faccio io d'estate. Io metto il jeans, mi piace un sacco in estate. Un giubbetto di jeans perché qua sulle Dolomiti Amiche fa freddo anche d'estate. Cioè non è freddissimo. Però la mattina sapete che io inizio a lavorare presto alle sette. Quindi esco alle sei e mezzo di casa. Più o meno, no? Sì, più o meno. Sì, più o meno verso le sei e mezzo. E è fresco alle sei e mezzo. Quindi metto il giubbetto di jeans. Più che altro per la mattina perché poi il pomeriggio quando esco non è così freddo. Però la mattina sì. E questo, questo, giubbetto di jeans. Jeans carinissimo. Scarpa, io cosa chiamavo una? Me l'avevate regalata a voi al compleanno? Io ho un sacco di mare ai piedi sempre. E mi avevano regalato queste geox con i saldi. Avevano preso i miei figli bianche. È super carina e le uso un sacco d'estate appunto col jeans. Poi dentro anche ovviamente durante il giorno tengo su se non ho la mezza manichetta. Tengo su il giubbetto di jeans, tanto magari con l'aria condizionata. Di solito al lavoro ci sono sempre nei posti chiusi ormai l'aria condizionata. E ho freschetto e quindi tengo su il giubbetto di jeans. Poi lo tolgo quando esco magari dal lavoro perché la macchina è super calda e rischio di prendere un colpo di calore. Poi amiche ho preso questi e voi direte, ma che cosa sta dicendo? Sì amiche, non è per la sedia, è per metterli qua sotto. Eh, io faccio il giubbetto di sedia. Vuoi far vedere sotto a questi? Qua sotto? Sì, sì, sì. Si vede? Sotto a questi qua perché ho paura che se il marito poco poco si puzza, si accorge che non ce li ho messi. E io tanto li sposto. Mi ha ascoltato. Non mi dice niente perché tipo la persona anche giudicato diciamo dagli altri, non solo parere mio, tipo la persona più buona del mondo. E infatti anche timido, è buono, non è che mi viene qua a sgridare, però magari gli dispiace, io poi capisco la faccia, no? Magari mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda, io lo guardo, capisco che magari è dispiaciuto che Raschio comunque ha comprato assieme il mobile, però, sì, l'ho comprato anche io, però magari si dispiace se si raschia normalmente, secondo me, e poi anche educazione da parte mia, educazione anche rispetto verso le cose, no? Perché è un peccato raschiarlo, comunque ho lavorato magari anche, no, tante ore per poter fare, comprare, far fare questo mobile, è un peccato che vada rovinato. Anche perché io, dimmi, io sono una che, non so se si è capito dall'inscatolare le cose, che ci tiene veramente tanto a trattare bene le cose. So che sono degli oggetti, ma sapete che io tratto bene le cose e ancora di più le persone, figuriamoci, no? E poi ho preso questo, perché non sono mai abbastanza questi specie di cestini, secondo me è carino, vorrei metterci, che cos'è, c'è una marca anche questo? Ah, Stefan Plast, Elegance, se vi interessa, ne fa un sacco di questi, l'ho pagato 4,50 euro, 90, 4,90 questo qua, sempre supermercato, ho preso tutto lì oggi, queste cosettine. 4 euro, e sono passata davanti a tutte le trusse di Revolution e Mezauda, che dovevo unboxare una trusse oggi, no, una palette, all'antica amiche trusse. Sì, una volta si diceva il fard, adesso si dice il blush, la trusse, adesso si dice palette, la trusse è diventato l'astuccio, quello con l'accia mia adesso si chiama trusse. E cosa volevo dirvi? Ho perso il filo, con questo unbox sono passata davanti, vi dico la verità, perché i feltrini li devo attaccare subito subito, perché ho paura, no? Quindi li attaccherò già stasera, e la canotta e le mutandine le voglio provare, perché se vanno bene, voglio prenderle qualche altro colore, perché c'è tipo il grigio, poi c'è il bianco. Volevo vedere un po' la taglia, perché comunque le ho pagate veramente un piccolo prezzo, perché la canotta 7,50 euro, e la mutandina l'ho pagata, ve l'ho detto prima, 4,50 euro. Quindi non è molto, se ti piace la provi, che se ti ha un po' grande, poi io ti prendo la taglia più piccola SM, e quindi ho intenzione oggi di provarlo, e domani tornare all'accaparramento. Ebbene sì, domani accaparramento, cioè tipo che ne compro una per colore, che poi ce n'era una per colore, quindi non è che ce n'erano due per colore. E questi, amiche, al supermercato, mi è venuto quasi uno svenimento, perché quando ho visto la battitura, mi avrà anche visto, facciamo così la cassiera, guardate. Perché ho visto passare tipo 4,90 euro, e ho detto, eh no, 4,90 euro all'uno, era l'unico, c'erano in tanti formati, grandi, interi. E io non ho guardato il prezzo, perché non c'era, mi scocciava a chiederlo, però ho visto gli altri, fatti più grandi, oppure senza ritagliare, che si aggiravano sull'euro e 70, euro e 80, al pacchetto. E non ho chiesto, perché se no mi scocciava a disturbare. Poi quando ho visto 4,90 euro, amiche, stavo cadendo per terra. Ma e lì su in quello manca una... Dove? No, sarà caduto... Ah, sarà caduto così. Si scivolato. Ci sono due. E invece no, era il totale dei per tre. Ok? Quindi tipo, adesso 1,60 euro mi pare costi e qualcosa, quindi per tre diventava 4,90, no? E io però mi vergognavo, non ho detto nulla, perché poi alla fine devo dire che loro hanno sempre ragione, e sì, non è che sbagliano. Sono io che a volte mi spavento, perché mi spavento, che poi non è che succedeva chissà che, però ho visto il totale, però ho visto il totale e ho detto, uh, ne ho presi tre, se costano 5 euro l'uno, 15 euro. Potevo col senno di poi prendere quelli senza ritagliare e li tagliavo io, capito? Sì, ho capito, e ho detto, e invece no. E invece no, era il totale di tre, quindi io super felice, sono andata in macchina, li ho appoggiati e poi sono rientrata, che me l'ho dimenticata i fazzoletti, ma quello me ne frega niente, però sono raffreddate, quindi erano indispensabili. E l'aglio treccia, che mia madre mi ha detto, prendi l'aglio treccia, che io ho preso l'aglio, quello normale, amiche, ed era anche un pochettino, diciamo, passato, non era di gradimento di nessuno a casa, era una qualità forse che non ci soddisfaceva a noi. Quindi ho preso quest'aglio, doveva assolutamente rientrare l'aglio treccia, per bollire le fave, perché mi hanno approvvigionato, si dice approvvigionato, portato le fave, mia madre dalla Sardegna, troppo buone, quelle secche. Saluto il mio amico Andrea, gli mando un bacio grande, Andrea, se ci stai guardando, che so che ci segue sempre, sei il mio amico Andrea. Sì, sì, sì. Adesso vi racconto il mio compagno di banco della prima elementare, amiche, amici da una vita, e ovviamente per simpatia guarda spesso i miei video, e lui, insomma, gli ho detto appunto che faccia queste fave, tra l'altro non mi ricordavo tipo la ricetta all'inizio, allora l'ho chiesta a lui, poi l'ho chiesta a mia madre, e mia madre mi ha portato dalla Sardegna le fave secche, perché io qua le ho trovate solo fresche. Perché sapete che vi ho fatto una testa così con queste fave, no? E ho chiesto oggi al supermercato, ma fave non me ne porti più? Non me ne porti più. Che le faccio con l'uovo? E mi ha guardato e mi ha detto, eh no, finita la fagione, basta fave, e io così. Dispiaciuto. Meno male che le ho comprate tutte quando le ho trovate, che poi gli ho spiegato, no? Perché le prendevo tutte, perché io trovavo otto scatoline, fate conto, mezza di un quarto forse, no? Com'era? Mezza di questa, mezza. E trovavo a disposizione nel negozio magari otto confezioni, e le prendevo tutte, e sembrava, no? Accaparramento secondo me, perché prendevo tutte. Però in realtà, di quanto ne usciva? Poco alla fine, sì, non tanto. Un tantino così, dopo pulite, perché sono i bacelli, mi pare si chiamino, no? Quelli fuori. Ora che li sgrani, rimane la favetta, e hai tanto tanto da buttare, e in realtà favette te ne rimangono. Noi siamo in cinque, quindi amiche un cucchiaio a testa. Io mi vergognavo fino a comprarle, perché mi sembrava di portarle via tutte, no? Al negozio. Però in realtà erano un cucchiaio a testa, non è che mi metto a cucinarle, manco il gas. A cucinarle, che cosa cucino un cucchiaio? E allora, gli ho spiegato, perché appunto ho parlato, diciamo, il responsabile, no? Del negozio, e ho spiegato questa cosa, che io mi prendevo le fave, che poi non sapevano, mi hanno chiesto, ma si fanno intere, si mangiano crude? No. E gli ho detto, no, si mangiano di tipo sgranate, invece pensavano che si usasse tutta, no? Come i fagiolini, quelli tipo, qua si chiamano le tegoline. Da noi in Sardegna fagiolini, perché li bollisci e poi te lo mangi tutto, no? Pensavano che fosse una roba del genere. No, invece io gli ho spiegato che lo si sgrana, poi si fa con l'uovo, poi loro mi hanno detto, no, ma se poi fa male, quindi non se le compra nessuno, perché hanno paura di essere allergici. Ci ho spiegato, più al sud, poi vabbè, boh, noi abbiamo provato, poi se uno per tranquillità vuole fare il test, però fanno un sacco bene le fave, nessuno le fa, però questo non è un canale di cucina. Sì, infatti. Comunque, ho preso, per raccontarvi tanto a unboxare, abbiamo unboxato, adesso tra me e voi, no, e la Reggi, ho preso quest'aglio, quello treccia, perché a mia madre, se dovete fare fave bollite, voi sicuramente sapete meglio voi di me, mi ha consigliato di mettere l'aglio a bollire, con anche, io ci metto anche le biettole, l'aglio senza sbucciare in spicchi, però predilige quello a treccia, non quello che senza la treccia. Io, sinceramente, sono di ignoranza pazzesca in generale, ma pure sull'aglio, ma io pensavo che fossero tutti uguali, solo che quelli a retina fossero staccati dalla treccia, invece mia madre mi ha detto, no, perché quella a treccia è più artigianale, e io così, ma veramente, l'ho guardata così, ma veramente, e quindi amiche, boh, l'aglio, se vi interessa, provate. Ora, io non le ho mai fatte quelle, diciamo, vere, non vere, grandi da fare bollite, perché io ho qua bollite con le biettole e l'aglio normale, l'aglio normale avevo fatto le fave, quelle sgusciate e fresche, e mi ha informato gigante. Adesso proverò l'emozione, diranno, che emozione di fare, ma per me è un'emozione grandissima, perché mi ricorda un sacco la mia nonnina, che purtroppo non c'è più, e mando un bacio così, anche, sembro tipo quando andavano ai programmi, quelli in televisione, che devono salutare tutti i parenti, però io so che mia nonna ha tanti nipoti, aveva, perché è mancata, la mia nonnina, anche il mio nonnino, sono mancati, però ha tanti nipoti, no, io ho tanti cugini, quindi so che guardano, magari, il video, magari non tutti, perché ne faccio tanti, però se guardano proprio questo, io gli mando un bacio a tutti i cugini, che ne ho tantissimi. E quindi, questo per dirvi che io le mangiavo a casa di mia nonna le fave bollite, perché loro le avevano, avevano, avevano gli orti grandi, e bollivano queste fave secche, ed erano troppo buone. Queste fave secche, proprio seccate, da loro, no? E io mi ricordo, che poi alla fine, non è che la fava in sé, sì, mi piace, però è più tutto quello che ci sta attorno, il ricordo, so, basta, se no mi metto a piangere. E allora, boh, mi fa fare un po' un viaggio nel passato, e volevo troppo fare queste fave secche, bollirle io, perché dovrebbero essere più facili da sgusciare, rispetto a quelle... Comunque, mia madre me le ha portate, perché non mi poteva più sentire, che erano due mesi, che li facevo una testa tanta con queste fave, ho chiesto a tutti, finalmente ho le fave, non le lascio andare a male, di sicuro, anche se sono secche, forse durano anche tanto tempo, ma qua, le facciamo subito. Se sapete come posso comprare dal Veneto, fave secche, me lo dite nei commenti, per piacere. Ve lo chiedo come favore personale, veramente questo, perché mi interessa un sacco avere altre fave secche, però abito in Veneto, lo sapete, sulle Dolomiti, e non è che mi metto a fare il viaggio per andare a comprarmi le fave, che poi in aereo, poi come me le porto le fave, devo pagare per salire le fave. Allora, se sapete, in qualche modo qualcuno che mi spedisce a ste fave, un negoziante, qualcuno, me lo dite nei commenti, così io poi telefono al negozio giù in Sardegna, mi faccio spedire, pago anticipato, non lo so come si può fare, grazie. Questo era proprio, questo mi serviva a me, proprio uso personale del canale in questo caso, ma io so che magari qualche ragazza da Cagliari, magari conosce qualche negozio che vende fave secche, e lì dice, vai nel negozio amica mia e gli dici, fave secche ne hai, che le servono alla Lallix, e io chiamo e mi faccio vendere queste fave. Cioè, mi sembra che non faccia una piega, no? Sì, può. Tanto vendere le devono vendere, io pago il sovrapprezzo, anche se c'è da pagare il sovrapprezzo, la spedizione, tutto quello che c'è da pagare io lo pago. Ma sa che ti arrivano queste bene di te, fave secche? Sì, 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 le biettole le compro qua, che se no non arrivano. Sì. Ah, purtroppo sì. L'aglio invece penso che me lo possano vendere pure loro se vogliono. Beh, quello penso di sì. E poi si può parlare anche per altre verdure, magari. Puguz, wow, io che buoni amiche, carciofi selvatici, basta. Troppo buoni i carciofi. Questo è letteralmente diventato un canale di cucina adesso. Un canale di cucina, oggi lo so. Oggi non abbiamo make, amiche, abbiamo mutande, feltrini, canate, un organizer, che io, questo non è un cestino per me, io vedo un organizer, ha del potenziale, metterò i tonici in piedi. E voi direte, quanti ne ha di tonici? Ho paura a guardare. Ah, ok. Non lo so, ho paura di avere troppi barattolini alti. Quindi devo spostare assolutamente la skincare, dobbiamo capire quanta ce n'è. Ho paura, lo dico. Ho paura. È un messaggio questo all'umanità. Perché ne ho là, ne ho messo là, bisogna metterla in ordine, non si capisce più nulla. Praticamente adesso abbiamo la situazione make-up super sotto controllo, super ordinata. Arriva un nuovo, una new entry nuova e tranquillamente lo posizioniamo, no? Sì. È tutto super ordinato, super organizzato. In mascara si trovano al volo, gli ombretti in mono anche, le palette pure. E così anche per ciprie, fondotinta, eccetera. Ma la skincare è proprio... È divisa, perché è divisa per cassetti. Ma a me nei cassetti mi scoccia. La voglio mettere là, che forse capisco meglio. E soprattutto posso utilizzare di più... Cioè, quando mi finisce un prodotto forse capisco meglio cosa scegliere. Perché così non si capisce nulla. Sì, sì. È un disastro. Non so come mettere, se prendere dei cestini così. Tu cosa dici? Oppure prendo le seggioline dello stadio così per mettere tipo dei campioncini piccoli. E lo metto lì così. Ci metto tutti i campioncini e poi capisco per utilizzarli. Forse ti conviene prendere uno così piuttosto che uno di quegli altri. Dici? Questa mera? Sì, sì. Che puoi non credere, quello è super utile però. Sì, sì, ho capito però. Boh, decideremo dai. Va bene. Amiche, se avete consigli per organizer skincare... Lo so che sembra strano, ma perché l'ho comprata? Ho preso un sacco di sieri che forse non sono nemmeno adatti a me. Semplicemente perché quando entravo lo vedevo magari quello lì che aveva un po' di sconto, quell'altro... Per fortuna che sono tutti chiusi. Quindi capiremo se sta partendo il PAO quando lo apriamo o se puzza già. Perché sono chiusi, però mai dire mai perché. Magari se è preso da un anno e mezzo o addirittura due, chissà. Perché adesso la situazione è sotto controllo da quando registro tutti i giorni. Però prima era un po' fuori controllo l'acquisto skincare. Perché non avevo i vostri preziosi consigli, no? E quindi approvvigionavo a caso. Boh, entravo e dicevo, boh, dammi quello, dammi quello, provo quello. A seconda, soprattutto, solo dello sconto. E non va mica bene. Ehi, ehi, questo no. Eh sì. Scusate questo pizzicorio tremendo. Allora, io direi che abbiamo unboxato tutto. Abbiamo detto tutto, chiacchierato un sacco. Questo è un video più che altro di chiacchiere, più che di unbox. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'unbox un po' diverso di oggi. Soprattutto fatemi sapere se voi comprate canote mutande al supermercato o se siete più team lusso, tipo, non so, Prada, Victoria's Secrets, o sì, robe così, insomma. Spero di non avervi deluso, però questa sono io. E mi è capitato, ecco, ho preso la parte sopra di Intimo, no, il reggiseno. Ti ricordi all'outlet di Calvin Klein? Quello sì buono e con i saldi l'ho pagato 25 euro. Però sì, no cifre da dire. Eh sì. Che ne so, Prada, 1800 euro per la mutanda, magari, no? 25 euro all'outlet. Mi piacerebbe prenderne un altro, però a prezzo pieno costicchiano. All'outlet non ci devo andare. Non so se aspettare a quando andiamo al mare d'estate che ci passiamo davanti. Forse ce la faccio a resistere. Perché poi io uso sempre le stesse cose, quindi. Ti dè, adesso siamo quasi in estate comunque. Ce la posso fare, sì, alla fine mi sa che resisterò e andrò lì a comprare. Vediamo, vediamo un attimo. Tu vuoi aggiungere qualcosina? No, no. La parola segreta di oggi è... Supermercato. Ok. Ok? Se vi va. Così capirò che siete arrivate a questo punto del video e soprattutto che siete d'accordo con me che è carino comprare le cose che ci piacciono, che troviamo utili e simpatiche e carine anche al supermercato. Quindi, parola segreta di oggi, supermercato. L'imoji segreta, il carrello. Ci sarà il carrello del supermercato come emoji? Sì, non so. Oppure della busta, se c'è una busta tipo della spesa, sarebbe super carino. E se no, amiche, stupitemi voi con un emoji carina, giocosa e simpatica. Se vi va, come sempre, lasciateci un like, così noi capiremo che questo video vi è piaciuto. Condividete con tutte le amiche, amanti dei supermercati e degli acquisti carini al supermercato. Se vi va, iscrivetevi anche al canale, perché l'iscrizione amiche è gratuita. E come dico sempre io, c'era mancai a tragoza buru. Devo aggiungere qualcosa, no? Allora, vi mandiamo un bacio. Grande, grande, grande. E ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Ciao, amiche. Buona serata.